Ai blocchi di partenza la quinta edizione di Glocal News, il festival del giornalismo digitale e globale che si terrà a Varese dal 17 al 20 novembre. La presentazione delle iniziative, tra cui un laboratorio per gli studenti e sostenuto dal Consiglio regionale, si è tenuta a Palazzo Pirelli. Questo festival che il Consiglio regionale sostiene si chiama significativamente Glocal News. Glocal News ha due elementi, una riflessione sui nuovi media ma sul contributo che questi possono dare al rapporto tra globale e locale. Quello che sta avvenendo oggi nel mondo ha bisogno di strumenti di comprensione diversi. I nuovi media sono uno strumento prezioso, non solo per comunicare ma anche per comprendere. Il festival si svilupperà attorno a incontri, dibattiti e workshop a cura di Varese News durante i quali giornalisti, speaker, imprenditori ed esperti anche europei proporranno una riflessione sul giornalismo di oggi e quello del futuro. Io credo che questo sia un modo straordinariamente interessante, quello nel caso concreto che useremo con BlogLab, per avvicinare i giovani sia al giornalismo, al mondo dei media, sia alle istituzioni. Perché? Perché oggi c'è una distanza che va colmata e va colmata intercettando un interesse dei giovani. e BlogLab fa proprio questo, l'interesse di potersi cimentare con un'esperienza interessante come quella di raccontare, come farebbe un giornalista, quello che avviene dentro un'istituzione, ha trovato negli anni passati grande successo, grande corrispondenza.